La battipagliese vittoriosa in Coppa Italia, grazie al gol di Piccirillo, prosegue i duri allenamenti in vista dell'avvio del campionato di eccellenza. La società rende noto che in preparazione alla gara di domenica contro la polisportiva Santa Maria, valevole come prima giornata del campionato di eccellenza, Gironi B ha programmato un amichevole per domani alle ore 14.30 presso lo stadio Pastena di Battipaglia contro la formazione primavera della Serenitana con ingresso libero. Grazie.